Noi siamo alla seconda edizione della Chia Laguna Half Marathon, che è una mezza maratona e una 10 km, che è nata l'anno scorso da un'idea del Chia Laguna Resort e del fondo di investimenti che lo possiede, per destagionalizzare, quindi per allungare fondamentalmente la stagione, anticipandola e posticipandola nella chiusura e nell'apertura. L'anno scorso abbiamo già avuto un riscontro molto molto buono, perché per la prima volta in Sardegna sono stati superati i mille corridori in una gara qualsiasi su strada e per cui questo ci ha dato nuova spinta, nuova linfa per essere ancora più presenti nel 2013 e per il 2013 abbiamo cominciato a comunicare questo nostro evento anche in giro e Firenze non poteva mancare nel nostro piano di comunicazione. Il Chia Laguna Resort è proprietario di questo evento, per cui l'intera struttura in quei giorni è a disposizione dei partecipanti alla gara. Per quello che riguarda i prezzi, partiamo da 25 euro per l'iscrizione, però abbiamo degli sconti perché si iscrive entro il 21 di dicembre. Comunque consultando il sito www.chialagunalfmaraton.it ci sono tutti i prezzi dettagliati che non sto a ripetere qui perché detti semplicemente a voce non rimarrebbero. Visitando il sito trovate tutte le informazioni. Bene, vediamo che allora a fine aprile ci sta proprio bene la vacanzina in Sardegna, soprattutto abbinata a una bella maratonina.